Avete questa mattina la conferma che abbiamo qui a Napoli in Campania punti di assoluta eccellenza. Non abbiamo in Italia una struttura in grado di curare malattie rare nel campo dell'oculistica come abbiamo qui. Sono state inventate anche terapie geniche per la cura di malattie gravi. Ci sono persone che hanno recuperato la vista con un intervento di carattere genico. C'è ovviamente una collaborazione fra il secondo policlinico e TGEM, la struttura di Teleton, il dottor Ballabio. Ed è veramente una cosa che ci riempie di orgoglio. E mi dicono che più della metà dei pazienti vengono da fuori regione a conferma del fatto che davvero questo è un luogo di eccellenza che abbiamo nella sanità campana. Veramente credo che siamo in condizione di proporre luoghi di assoluta eccellenza nella cura dei pazienti nella nostra città.